Il cammello, il leone, il fanciullo, queste le tre metamorfosi dello spirito che il profeta persiano Zarathustra annuncia nella grande opera, la più grande, la più famosa opera di Friedrich Nietzsche, Alzo sprach Zarathustra, così parlò Zarathustra. Dunque siamo in conclusione, siamo nel momento più alto e conclusivo della filosofia di Nietzsche, il filosofo che più di tutti rappresenta un maestro del sospetto, colui che mette in discussione tutta la tradizione culturale dell'Occidente, colui che mette in discussione la centralità dell'Io, il soggetto, come vedremo in conclusione, colui che mette in discussione la metafisica occidentale, tutta la tradizione culturale che a partire da Socrate e Platone costruisce una metafisica razionale, che invece viene distrutta da Nietzsche. Perché? Perché Nietzsche è il filosofo che inizia descrivendo l'antica Ellade fatta di spirito dionisiaco, fatta di caos, irrazionalità, fatta di istinto primitivo, passione, fatta di una natura umana che viene compressa sotto la forza razionale dello spirito apollineo. Nietzsche è il filosofo della distruzione di tutta la tradizione occidentale, di tutta la morale, è il filosofo che annuncia la morte di Dio come crollo di tutti i valori assoluti, la morte di Dio come crollo della metafisica, della religione, della morale, e di fronte al crollo di tutti i valori si apre questa possibilità infinita, immensa, che è terrore, sgomento, che è vuoto totale. Giunto all'esito estremo del nichilismo, Nietzsche parte con la filosofia del meriggio, la terza fase, quella di così parlò Zaratustra, quella legata alle parole chiave che ora qui citiamo proprio per chiarire quali sono i termini chiave della filosofia costruttiva di Nietzsche dopo la seconda fase distruttiva, illuministico-critica e distruttiva. Le parole chiave sono Übermensch, eterno ritorno, volontà di potenza, trasvalutazione dei valori e infine prospettivismo, che sarà poi qualcosa che aprirà la via a tutta una certa filosofia del Novecento. Dunque, abbiamo già parlato la volta scorsa, appunto, dell'eterno ritorno, della teoria dell'eterno ritorno, che è strettamente legata a quella di cui parliamo oggi, la volontà di potenza, cioè il momento in cui si concretizza veramente la figura dell'oltreuomo. L'oltreuomo. L'uomo che è andato oltre che cosa? Fondamentalmente due cose, perché l'oltreuomo è l'uomo, inteso come l'uomo nuovo, la nuova umanità, è l'uomo capace di sopportare due cose fondamentalmente. Primo, la morte di Dio, quella che viene annunciata nella Gaia Scienza. Secondo, l'Ubermensch, l'oltreuomo, è colui che è in grado di sopportare l'eterno ritorno dell'uguale. Cioè, colui che è in grado di sopportare quello che Nietzsche ha definito il più abissale dei miei pensieri. Cioè, quella condizione in cui ogni cosa, ogni avvenimento, è destinato a ripetersi e a ritornare in eterno. Perché? Perché la vita è circolo, perché il tempo è circolare, lo abbiamo già visto. Il tempo non è il tempo lineare della concezione cristiana, ma è il tempo ciclico dei greci e della cultura orientale, dell'antica India. E quindi, l'oltreuomo è colui che è in grado di sopportare. Ma perché sopportare? Perché il termine sopportare può far pensare ad un atteggiamento passivo. Sopportare nel senso di accettare. Ecco, questa è la parola forse più appropriata per definire la filosofia di Nietzsche. Perché Nietzsche, comunque, noi abbiamo già parlato della vita di Nietzsche, abbiamo detto che nell'ultima parte della sua vita, nell'ultimo decennio, dal 1889 circa, fino al 1900, l'anno della sua morte, Nietzsche è, diciamo, vittima di disturbi psichici. E lui ha dei veri e propri disturbi. Però è pur vero che, a volte, le sue teorie filosofiche non sono state comprese. Per esempio, lui a un certo punto scrive una lettera ad un amico dicendogli guarda che cosa mi doveva capitare nella vita. Io che dovevo fare il professore di filologia, mi tocca invece essere Dio. Ora, una frase del genere potrebbe sembrare folle, ma in realtà vedremo adesso, definendo bene quelli che sono i caratteri dell'Ubermensch, dell'oltreuomo, come una frase del genere significa che dopo la morte di Dio, dal momento che l'uomo si trova senza nessun punto di riferimento, è come se in qualche modo l'uomo dovesse farsi Dio ed essere lui stesso, sostituirsi a Dio nel cosa? In che cosa? Nel creare il mondo nuovo. Il mondo nuovo caratterizzato dalla nuova filosofia di Nietzsche, quella che viene descritta appunto nella fase del fanciullo. E oggi parleremo ancora di più di questo fanciullo, facendo riferimento anche ad un passo importante dell'opera di Nietzsche, così parlò Zaratustra. Abbiamo già detto dei tre tempi di Nietzsche, e abbiamo detto che il tempo dell'Ubermensch, dell'oltreuomo, è il tempo non ciclico, non il tempo dell'eterno ritorno, ma è il kairos, è l'attimo, la decisione, il taglio, e lo rivedremo proprio in quel passo di Zaratustra, il discorso del taglio. Cioè l'Ubermensch, l'oltreuomo, è colui che sa accettare l'eterno ritorno, che lo vuole, non che lo vive passivamente, ma che decide che sia così. Ci arriveremo. Quindi, secondo Nietzsche, la vita non è accettazione passiva di una morale condivisa, di un qualcosa che viene dall'esterno. La vita è istanza suprema e principio filosofico fondamentale. La vita è volontà di potenza. E quindi ripartiamo da questo discorso, facendo però riferimento all'eterno ritorno e al kairos, perché sono legati strettamente fra loro i concetti di volontà di potenza e di eterno ritorno, inteso però come l'attimo, il saper cogliere l'attimo e renderlo eterno. Volontà di potenza. Che cosa si intende con questa espressione? Cosa intende Nietzsche per volontà di potenza? Allora, anzitutto ci viene in mente il confronto con il maestro Schopenhauer. Noi sappiamo che per Schopenhauer il nichilismo era il punto d'arrivo, era il tutto, il nirvana, l'assoluto. Per Nietzsche, invece, il nichilismo è il punto estremo della fase distruttiva, della fase del leone, che graffia, morde e lacera, ma il nichilismo è anche il momento di maggior terrore, sgomento e possibilità assoluta, oltre il quale bisogna andare. Quindi la filosofia di Nietzsche è oltre il nichilismo. E quindi confronto tra il nichilismo di Schopenhauer, che è un punto di arrivo, mentre per Nietzsche il nichilismo è un punto di partenza. Poi vediamo la parola volontà, anche questa. Mentre per Schopenhauer la volontà era l'essenza della vita, ma intesa come principio di desiderio, desiderio, mancanza, dolore, e l'uomo per superare il dolore la deve annullare la volontà, qui siamo in qualche modo all'opposto. La volontà di potenza di Nietzsche è all'opposto della volontà di Schopenhauer. Anzitutto perché la volontà di Schopenhauer è comunque dolore, è sofferenza, è infelicità per l'uomo. Mentre la volontà di Nietzsche è felicità, è vero godimento, è pienezza di vita. Ma poi, e questo è legato a quello che abbiamo appena detto, mentre la volontà di Schopenhauer è una volontà irrazionale, cioè che l'uomo non decide, non sceglie, che l'uomo subisce appunto passivamente come tutti gli esseri viventi, la volontà di potenza è un qualcosa che l'uomo decide di far emergere nella propria vita. Cioè è una volontà che l'uomo esprime attraverso uno spirito rinnovato, uno spirito che una volta annullate tutte le verità, le ricrea. Quindi è l'essenza stessa della vita. Non mera autoconservazione, come avrebbe potuto dire Schopenhauer, ma impulso a crescere e a volere sempre di più. E questo impulso a crescere, mentre per Schopenhauer porta poi ad un appagamento momentaneo e poi alla noia, invece per Nietzsche deve portare ad una soluzione definitiva. e quindi l'attività legata alla volontà di potenza è, usiamo proprio le parole di Nietzsche, azione creatrice del significato del mondo e del valore delle cose. Quindi la volontà di potenza è quell'atteggiamento tipico dell'übermensch, dell'oltreuomo che si è liberato di tutti i valori della tradizione, che è finalmente lui artefice del proprio destino. è lui che può creare il significato al mondo, lo dà lui il significato al mondo e il valore alle cose. Quindi questo significato, questo senso del mondo non è un senso che viene accettato dall'esterno passivamente, cioè che viene subito, tollerato, ma è un significato che l'uomo stesso crea. L'uomo è creatore, ecco perché lui è Dio, l'oltreuomo è Dio in questo senso, perché crea il senso del mondo e il valore delle cose e quindi essendo un creatore è un artista. Perché? Ritorniamo alla figura dell'artista, l'artista è colui che crea e quindi, qui torniamo anche alla prima fase del pensiero di Nietzsche, l'arte è la forma suprema della vita. Quindi l'oltreuomo è l'artista che crea il nuovo mondo e la volontà di potenza è il volere. Quindi insisteremo molto su questo bill, con questo termine proprio di volontà. L'oltreuomo che cosa fa? Redime il tempo dalle sue catene e libera l'uomo dal peso del passato. Vedete come torna il concetto di tempo? Quindi, se il tempo è destinato a ripetersi e se il tempo incatena l'uomo in questo continuo ripetersi degli eventi, l'oltreuomo è colui che redime questo termine religioso, quindi messo tra virgolette, che redime, quindi purifica il tempo da che cosa? dalle catene che costringono l'uomo e libera l'uomo dalle catene che lo trovavano legato al passato, quindi il cammello, il peso del passato. E quindi veniamo all'espressione forse veramente più significativa e efficace della volontà di potenza. La volontà di potenza è affermazione dell'eterno ritorno, quindi non accettazione intesa come lo tollero, no, l'affermo, l'eterno ritorno deve essere affermato come amor fati. Questa è l'espressione latina che indica l'atteggiamento della volontà di potenza, l'amore del fato, l'amore per il destino, ovvero trasformare il così fu in così volli che fosse. Cioè se è stato così non è stato perché qualcosa mi è accaduto. Tutto quanto accade, tutto quello che avviene nella vita non deve avvenire perché l'uomo lo subisce, ma perché vuole che sia così. Quindi è dire sì alla vita, è accettare l'eterno ritorno volendolo fermare nell'attimo, nel kairos, il passato ritorna perché io lo voglio e quindi è una forte affermazione di volontà. Questo è lo spirito dell'oltreuomo. La volontà di potenza non ha un significato fisiologico, ma è volontà dionisiaca di accettazione della tragicità dell'esistenza. Quindi non utilizzate maschere, dice Nietzsche, non mascheratevi dietro una falsa morale che diciamo rassicuri l'uomo dalla sua vera natura, perché la maschera è quello che l'uomo indossa per difendersi dalla sua vera natura dionisiaca. L'uomo deve accettare il suo dionisiaco e il così fu deve essere il così volli che fosse, cioè devo volere che sia così. Quindi l'eterno ritorno lo devo volere, lo devo affermare. La volontà di potenza è affermazione dell'eterno ritorno e affermazione della tragicità dell'esistenza. Quindi questa tragicità dell'esistenza non è qualcosa che l'uomo deve sopportare, ma lo deve volere, deve essere lui a volere e quindi a dare senso al mondo ci torneremo e a dare valore alle cose. L'oltreuomo è colui che sa vivere senza certezze o fedi assolute, quelle che sono state cancellate con la morte di Dio. Tutti gli spiriti inferiori periscono, cioè gli spiriti inferiori sono coloro che non riescono a farsi übermensch e quindi sono soggetti a essere schiacciati dalla vita. Bisogna dire di sì alla vita per vincere la vita. L'oltreuomo è creatore. Nel mondo svuotato dal crollo della metafisica si assume l'oltreuomo la responsabilità di offrire nuovi significati e nuove prospettive. Questa parola prospettive ci si collegherà direttamente al prospettivismo che dicevamo all'inizio. Quindi l'oltreuomo è colui che vuole quello che accade, volere l'eterno ritorno e fermare quell'eterno ritorno attraverso il kairos cioè il taglio del kronos cioè del movimento del tempo che circolare o lineare che sia è un tempo edipico in cui ogni attimo viene sempre divorato dall'attimo successivo cioè rendere eterno quell'attimo e quindi dire di sì alla vita accettare il dionisiaco ecco il ritorno e quindi il cerchio un po' si chiude nella terza fase del fanciullo perché con la terza fase noi abbiamo il modo in cui l'uomo può veramente affermare il dionisiaco che c'è nella natura umana stessa cosa che non poteva essere nella prima fase perché l'uomo era incatenato al passato era incatenato ai valori tradizionali a tutta una tradizione culturale dell'occidente che invece la filosofia di Nietzsche ha distrutto proprio perché ritorniamo al crepuscolo degli idoli filosofare col martello la filosofia col martello di Nietzsche ha demolito tutte le certezze tutte le fedi assolute l'oltreuomo sa vivere senza queste certezze perché sa creare lui nuovi significati nuovi valori ora da questo principio dell'oltreuomo creatore come l'artista arte come momento supremo della vita come affermazione dello spirito dionisiaco passiamo all'altra parola chiave della filosofia del fanciullo della filosofia del meriggio la trasvalutazione dei valori e chiariamo una cosa che cosa si intende per trasvalutazione questa è una parola molto particolare è la volontà di Nietzsche di andare oltre perché transvalutazione trasvalutazione viene dal latino transvalutazione cioè una valutazione che vada oltre continua questo über questo oltre che qui diventa transvalutazione oltre che cosa? oltre il nichilismo oltre il nulla e il vuoto che si sono affermati dopo la morte di Dio quindi la trasvalutazione dei valori è strettamente collegata all'oltreuomo e alla volontà di potenza quindi andare oltre il nulla oltre il vuoto oltre la morte di Dio e affermare nuovi significati perché come avevamo detto il nulla è visto come possibilità però per chiarire il significato il senso di trasvalutazione dei valori dobbiamo dire che per Nietzsche non significa una sostituzione della vecchia tavola di valori con una nuova tavola di valori ma un diverso modo di rapportarsi ai valori stessi perché? perché noi abbiamo detto che già con Marx si era distrutta un po' la certezza della metafisica tradizionale perché Marx aveva rovesciato il pensiero di Hegel dicendo che che appunto non era la la ragione lo spirito che muoveva la realtà ma è la la materia no? però Marx aveva sostituito la vecchia tavola di valori con una nuova tavola di valori per cui l'uomo era sempre comunque passivamente portato a dover accettare dei valori dall'esterno invece con la trasvalutazione dei valori cambia proprio il modo dell'uomo di rapportarsi ai valori stessi quindi un diverso modo di rapportarsi ai valori che non sono più concepiti in senso assoluto cioè come una verità assoluta e quindi si supera il concetto di verità assoluta che inizia con Socrate e Platone ma come libere manifestazioni dell'attività creatrice dell'uomo come se l'uomo creasse continuamente i propri valori e non li dovesse recepire dall'esterno quindi questa è la trasvalutazione dei valori ora parlando di Marx ci viene in mente ad esempio un confronto anche con Feuerbach perché noi sappiamo che Feuerbach aveva detto la religione è causa dell'alienazione quindi l'uomo eliminando la religione perché prima di Nietzsche è stato Feuerbach a dire che l'uomo crea Dio e che deve distruggere Dio quasi come se questa morte di Dio nicciana venisse dal suggerimento di Feuerbach ma la differenza netta e decisiva tra Nietzsche e Feuerbach questo lo diciamo sempre per chiarire ogni dubbio è che Feuerbach e poi dopo di lui Marx si trova in una filosofia di tipo materialistico concreto cioè Feuerbach è il filosofo dell'uomo concreto Feuerbach vuole negare la religione per affermare l'uomo come bisogni materiali mentre la filosofia di Nietzsche è una filosofia che si muove tutta all'interno di uno spiritualismo quindi nel momento in cui noi diciamo che Nietzsche vuole superare la religione attraverso la morte di Dio e l'affermazione dell'oltreuomo come spirito dionisiaco legato alla terra al primitivo all'istinto non diciamo comunque che Nietzsche giunge ad una filosofia materialista questo lo chiariamo subito Nietzsche comunque è spiritualista è contrario al materialismo di Marx come contrario e si oppone al positivismo quindi pur nel suo essere legato al corpo alla terra Nietzsche sta parlando sempre di uno spirito ricordiamoci sempre la parola spirito dionisiaco quindi la parola spirito in Nietzsche potrebbe ricollegarsi a Hegel solo che per Hegel lo spirito è un principio razionale mentre con questa trasvalutazione dei valori con la volontà di potenza con la morte di Dio Nietzsche invece afferma lo spirito come non un valore assoluto vedete lo leggiamo qui non valori concepiti in senso assoluto ma libere manifestazioni dell'attività creatrice dell'uomo e allora in conclusione l'oltre uomo chi è? è il fanciullo che danza sui piedi del caso e quindi qui veniamo a quel passaggio straordinario del libro così parlò Zaratustra chiamato la visione e l'enigma quindi l'oltre uomo è il fanciullo è il fanciullo perché il fanciullo chi è? è colui che si è liberato dalle catene del passato è l'uomo privo di strutture e sovrastrutture diciamo di ideologie di punti di vista e danza sui piedi del caso gioia e riso questi sono gli elementi che caratterizzano l'uomo nuovo l'uomo il fanciullo il nuovo fanciullo di Nietzsche è caratterizzato dalla gioia e dal riso e allora individuiamo queste parole chiave del fanciullo che poi è l'oltre uomo nicciano la prima parola è la danza e la danza ci riporta alle diciamo alle feste in onore di Dioniso e quindi la tragedia la nascita della tragedia lo spirito dionisiaco che si manifesta nella danza la danza è una manifestazione del dionisiaco come l'arte e il riso perché il riso vediamo questo passaggio dello Zaratustra in cui si parla del pastore il passaggio la visione e l'enigma lo avevamo già accennato a proposito del tempo del tempo ciclico Zaratustra sta camminando insieme a questo personaggio che è il nano che rappresenta lo spirito umano banale diciamo si trovano di fronte ad una porta carraia questa porta carraia diciamo è una porta che nessuno ha mai attraversato in pieno e diciamo è una porta che conduce verso due strade una in avanti e una all'indietro è proprio lì che il nano dirà guarda che perché questa porta rappresenta l'attimo l'attimo che vede il futuro davanti a sé e il passato quindi è una porta che apre la strada in avanti come un rettilineo infinito e che vede dietro di sé una strada infinita ora questa linea infinita rappresenta la concezione lineare del tempo mentre il nano dirà a Zaratustra le cose dritte mentono ogni verità è ricurva facendo riferimento al tempo ciclico ma lì Zaratustra dirà a questo nano lo sgriderà gli dirà fai attenzione non essere così superficiale perché perché il tempo ciclico può essere un pensiero abissale che l'uomo deve riuscire invece a fermare nell'attimo e la scena del Zaratustra e il nano si sposta subito in un'altra diciamo in un altro scenario cioè c'è un passaggio senza senza logica che è quello di una visione appunto cioè Zaratustra ha una visione qual è la visione? è quella di un pastore che sta riposando sdraiato sul prato mentre egli è tranquillo al riposo un serpente entra nella sua bocca e lo morde lo morde sulla lingua sul palato quindi procurandogli un dolore terribile a quel punto Zaratustra incita questo pastore a mordere la testa del serpente e il pastore morde la testa del serpente la sputa via la testa e in quel momento si alza in piedi il pastore e appare a Zaratustra come un fanciullo ridente appunto come un uomo nuovo circonfuso di luce dice cioè pieno di luce che ride ride e gode della vita ecco quel pastore che è riuscito a tagliare la testa del serpente e a liberarsene e a ergersi in alto ridendo rappresenta appunto l'oltreuomo l'oltreuomo che è riuscito a fermare con questo taglio della testa del serpente che cosa? il tempo il tempo ciclico infatti noi vediamo in questa immagine ora cerchiamo anche di spiegare il significato di questa immagine è un simbolo antico questa immagine un simbolo che noi troviamo fin dagli antichi egizi e poi in tutta la tradizione dell'alchimia di tutta la cultura orientale persiana e via dicendo fino appunto a Nice rappresenta che cosa? è il serpente che si morde la coda ovvero è simbolo del tempo ciclico dell'eterno ritorno è simbolo dell'energia universale è simbolo diciamo di un di un'energia che si consuma e si rinnova e quindi il tempo ciclico di cui parla Nice ora questo simbolo antico che si chiama Uroboro è un po' diciamo può essere preso in considerazione per spiegare questo enigma cioè l'enigma del serpente che morde il pastore e del pastore che tagliando la testa al serpente interrompe questo ciclo questo eterno ritorno e riesce quindi a affermare se stesso sul tempo ciclico quindi l'Uroboro è tempo ciclico ed eterno ritorno è potere che divora e rigenera se stesso è energia universale che si consuma e si rinnova ma di fronte a questo mostro tra virgolette l'oltreuomo è colui che sa tagliare la testa del mostro spesso era anche raffigurato come un drago il mostro che è il tempo che incombe su di noi noi dobbiamo essere capaci di fermare il tempo di volere l'accettazione dionisiaca della vita e allora il fanciullo l'oltreuomo caratterizzato dal riso la gioia e il riso ecco questo è il punto più alto e conclusivo della filosofia di Nietzsche l'oltreuomo è l'artista creatore di immagini e di sensi l'abbiamo detto che afferma la propria volontà di potenza come fonte di nuovi significati e dunque in conclusione in appendice al nostro discorso sulla fanciullo sull'oltreuomo di Nietzsche il prospettivismo che cosa si intende per prospettivismo è un atteggiamento filosofico che Nietzsche inaugura con la sua filosofia del sospetto e che però troverà lunga diciamo eco nella filosofia del novecento la frase famosa che rappresenta il prospettivismo di Nietzsche è non esistono fatti ma solo interpretazioni questa è la frase famosa di Nietzsche che aprirà la strada poi alla corrente filosofica dell'ermenetica che è l'ultima corrente filosofica del novecento secondo cui la realtà è interpretazione il mondo non ha un senso ma innumerevoli sensi e quindi se l'uomo è creatore di senso siamo noi a creare il nostro senso e dunque attraverso questa nuova prospettiva nei confronti della realtà Nietzsche distrugge il soggetto il soggetto è una costruzione interpretativa è qualcosa di aggiunto con l'immaginazione quindi viene distrutta la certezza del cogito cartesiano quindi il fatto che esista un soggetto che possa ordinare il mondo viene superato distruzione dell'io che è alla base della tradizione metafisica moderna quindi distruzione di qualunque pretesa di interpretazione razionale e quindi di metafisica intesa come scienza dell'essere scienza ordinata dell'essere Nietzsche rifiuta appunto il concetto di metafisica tradizionale il mondo è caos e l'interpretazione è ciò che dà forma umana al caos addirittura c'è la critica nei confronti di Kant non esiste un'unica chiave di lettura della realtà quindi le forme a priori kantiane secondo cui la realtà è oggettivamente universalmente conoscibile in base alle forme a priori viene superata da Nietzsche Nietzsche dice che non ci sono diciamo forme a priori trascendentali usando il termine kantiano quindi quello che Kant considerava soggettivo e quindi universale valido per tutti viene distrutto da questa messa in discussione dell'oggettività quindi il mondo è caos non è razionalità non è ordine ma è anche innumerevoli e mutevoli punti di vista la scienza dice Nietzsche nasce da presupposti extrascientifici da desideri e bisogni istintuali dell'uomo quindi sembra quasi di tornare al discorso dello spirito apollineo o della morale l'uomo ha bisogno di certezze di rassicurazioni allora crea la morale oppure ha bisogno di avere delle certezze e quindi inventa la scienza ma la scienza nasce da qualcosa che invece è extrascientifico e come abbiamo visto nella fase illuministica per Nietzsche la vera scienza è la scienza Gaia la scienza che non deve rispondere a desideri e bisogni dell'uomo quindi l'uomo è anzitutto bisogni istintuali quindi quell'umano troppo umano di cui abbiamo già parlato non esiste una verità assoluta ma esistono criteri di salute e di forza che sono parole chiave dello spirito dionisiaco che abbiamo già descritto dunque con la nostra mappa concettuale concludiamo definitivamente la filosofia di Nietzsche l'uomo nuovo l'Ubermensch è il superamento del nichilismo il fanciullo la terza fase del pensiero nicciano è quella in cui Nietzsche afferma che l'oltreuomo è capace di sopportare le implicazioni della morte di Dio e sa dire sì alla vita e godere del corpo e dei suoi valori quindi attenzione qui no sembra una filosofia materialista è sempre una filosofia spiritualista però godere del corpo vuol dire dello spirito bionisiaco l'oltreuomo può sopportare anche l'idea dell'eterno ritorno cioè l'ipotesi che la storia sia un grande circolo e che tutto sia destinato a ritornare che è contrapposta all'idea del tempo lineare secondo cui invece la storia è una catena di momenti irripetibili orientati verso un fine ultraterreno ma la terza fase del pensiero nicciano ritornando su è simboleggiata dal fanciullo che rappresenta l'oltreuomo übermensch cioè colui che va oltre l'uomo inaugurando un nuovo inizio l'oltreuomo è espressione compiuta della volontà di potenza la quale è essenza della vita cioè impulso a crescere è arte cioè azione produttiva del senso nel mondo quindi la parola arte in questo senso scusate il gioco di parole non deve essere intesa nel suo significato letterale come produzione di oggetti artistici certo l'arte ha una valenza dionisiaca che noi abbiamo visto già nella prima fase del pensiero ma in questo senso è arte perché l'oltreuomo è artista è artista perché produce non un'opera d'arte non un quadro o una statua ma produce il senso del mondo e quindi l'oltreuomo in virtù di questa potenza creatrice opera una trasvalutazione dei valori cioè inaugura un nuovo modo di rapportarsi ai valori intesi come libere manifestazioni dell'uomo e dunque con questa filosofia così diciamo rivoluzionaria rispetto al pensiero tradizionale così stravolgente potremmo usare questo neologismo rispetto alla tradizione filosofica occidentale Nietzsche ha in qualche modo interrotto il corso della storia del pensiero occidentale Nietzsche rappresenta veramente un trauma filosofico straordinario che pone fine alla filosofia dell'Ottocento e che aprirà strade completamente diverse apre la via tutta una filosofia del Novecento quindi tutto il pensiero filosofico del Novecento parte da Nietzsche deve tutto a Nietzsche a partire dal prossimo filosofo che a Nietzsche si ricollega fortemente Sigmund Freud il padre della psicanalisi il quale proprio nel 1900 l'anno della morte di Nietzsche scrive la sua opera più famosa la prima delle sue grandi opere l'interpretazione dei sogni in cui attraverso l'analisi proprio della mente umana in senso medico perché anzitutto è un medico Freud riesce a veramente a rendere concrete queste teorie che con Nietzsche potevano sembrare in apparenza soltanto delle diciamo delle follie di un uomo che sta arrivando ai disturbi psichici alla follia in realtà con Freud noi rafforzeremo questo pensiero nicciano che mette in discussione la certezza dell'io la certezza del soggetto la certezza della ragione in grado di poter dare risposte al mondo e quindi si distruggerà completamente anche il positivismo la fiducia nella scienza nel progresso e si aprirà veramente la strada a tutto il pensiero critico filosofico del 1900